Prima di arrivare in Polonia durante questi ultimi mesi di continuo lavoro ho avuto modo di vedere diversi lavori pubblicati sull'Olocausto di Auschwitz, fatti da persone più o meno comuni come me. Non è stato facile per me ricostruire immagini e commenti di tutto ciò che è successo in quell'epoca. Tra tutti i campi di concentramento sparsi per l'Europa e quindi visibile ai turisti ne esiste uno fantasma ed è appunto dove mi trovo oggi il campo di concentramento di Treblinka a nord-ovest di Varsavia ad appena 120 chilometri dalla... ... 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